caro paese vi è offerto da non vedo l'ora controllo della vista occhiali da sole e da vista vendita e assistenza orologi gioielli marlù a predappio via roma 2 beh dovrei dire non vedo l'ora di andare nel posto diretto masistralmente dal nostro ospite però insomma voglio dire avrò ancora un po di tempo parlo infatti con il dottor giuliano fasolino che è il presidente di questa società qui si sana che ha strutture tantissime ce ne parlerà lui e in particolare l'ho conosciuto l'ho incontrato l'altra sera appunto a modigliana in occasione del servizio sul almanacco modigliana questa ridente cittadina lei da dove viene dottore intanto benvenuto ma da dove viene esattamente intanto grazie di questo invito perché sono molto contento di essere qua come sono stato contento della vostra presenza nella nostra struttura l'altra sera ringrazio il sindaco che ha questa attenzione per 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 la comunità anziana e quindi di riflesso per per la nostra struttura noi siamo a bologna siamo presenti diverse regioni del nord italia oggi siamo qua per parlare di modigliana quindi di questa comunità che ci ha accolto e oggi sono felice ed orgoglioso di essere qui essere invitato da voi parlare dopo il sindaco mi fa sentire importante ecco sa cosa ho pensato che il sindaco forse anche lui che sono non è proprio più di primo pelo potrebbe un domani pensare decidere ci incontriamo magari sto parlando a valerio roccalbegni in questa bellissima struttura dove fra l'altro la mamma di una mia amica daniela che saluto è stata ospite si è trovata benissimo allora devo dire l'impressione quando si arriva parte l'altra sera tutta illuminata di questa tranquillità serenità e soprattutto ordine io sono un po maniacale pulizia veramente una cosa eccezionale d'altra parte quanti ospiti avete e quanto personale avete per accudirli si l'ordine la pulizia diciamo sono la base senza le quali non si può neanche pensare di fare questo tipo di attività noi abbiamo circa 80 ospiti e circa 60 dipendenti tenga in considerazione che oggi questo è un servizio rivolto prevalentemente ad anziani non autosufficienti con un con un età che va ben oltre gli 85 quindi il bisogno di assistenza è notevole la necessità di di dare un tipo di servizio di per queste persone è fatta di persone qualificate e tante al saluto anna maria naturalmente che ho conosciuto con la quale c'è stato subito un feeling come d'altra parte anche le altre signore che erano presenti in ufficio che però non sono volute comparire quella sera allora diciamo che questa è una struttura lei ha detto rivolta prima ad ospitare prevalentemente diciamo anziani non abili ma forse avete anche in mente nuovi progetti per questa struttura sì noi come gruppo abbiamo realizzato altrove un primo nucleo per gravi disabilità acquisite in età adulta è una legge 2068 che si rivolge un po a un tipo di utenza diversa da quella anziana a modigliana abbiamo realizzato un nucleo abbiamo realizzato un nucleo da dieci posti attualmente adesso siamo in una fase di attesa per perché possa essere di interesse dell'ente pubblico il nucleo è già autorizzato e si rivolge appunto a persone che hanno perso l'abilità durante la diciamo la loro vita senta trattare gli anziani io ho avuto una madre che aveva l'alzheimer e di questo è per questo è scomparsa devo dire che è traumatizzante io credo che sia una delle malattie perché non sai dove sei non sai chi sei non sai mi diceva sempre io non ho figli cosa viene a fare lei a trovarmi cosa terribile che ti fanno quindi immagino che lavorare lì ma forse brutta questa parola ci si fa l'abitudine è comunque un senso di così non lo so di io non mi saprei spiegare non potrei vivere in una anche perché l'ho vissuta personalmente per tre anni quindi voglio dire una cosa un po o naturalmente ci si abitua brutta la parola ma insomma ecco devo dire che quelle persone che ho trovato lì sono molto disponibili molto gentili forse è un lavoro quello di essere lì come diciamo addette a questi anziani che deve essere nato perché non si potrà fare un lavoro così perché diciamo tanto devo guadagnare qualcosa devo fare secondo me se uno la interpreta così è meglio che non lo faccia è d'accordo con me dottore assolutamente sì è un lavoro che necessita di un di una componente che è quella personale degli operatori guardi noi tante volte vediamo scene in televisione di di violenze scene di di maltrattamenti questi sono dovuti soprattutto alla all'abitudine quella che diceva lei prima cioè abituarsi a fare qualcosa non rendersi conto che vicino davanti si sta assistendo a una persona ad una persona in questo comporta nel tempo non riuscire più a fare questo lavoro con lo spirito necessario e guardi noi quando facciamo gli incontri facciamo tanta formazione col personale quando facciamo gli incontri con loro spieghiamo ai nostri operatori che questo è un lavoro fatto prevalentemente di testa ecco mi ha un os ma lo stesso infermiere dice ma quando vai a casa la sera cos'è che ti fa male di più e dice la testa perché la stanchezza mentale assistere per queste persone la stanchezza mentale quindi allenare come ci si allena ormai si allena tutto allenare queste persone a continuare ad amare a continuare a ad avere a provare soddisfazione nel lavoro che fanno qualche tempo fa lei l'avrà letto a predato è successo così un'antipatica situazione in una struttura diciamo gestita dai camigliani i girasoli io ho un'amica che si chiama gerarda che saluto con tanto affetto aveva il marito lì e addirittura ha scritto una lettera al carlino e al corriere qui regionale per dire che suo marito è stato trattato benissimo quindi tutte queste voci da fuori di persone che non sanno che non si rendono conto di cosa voglia dire gestire queste cose è sicuramente antipatico e non deve essere fatto bisogna trovarsi secondo me dottore allora parliamo lei ha capito che mi voglio interessare perché insomma sarà quasi vicina alla mia venuta veramente messo dentro di me ho detto ma questo è il posto dove vorrò essere franzo siamo trent'anni anche un po prima quando non sarà più in grado di assolvere le funzioni normalissime perché non è che ci siano ho visto persone già ho visto persone in carrossella poi che applaudivano una signora voleva il libro a tutti i costi l'almanacco ecco avete altre aperture in corso sì ritorno al discorso del del della modigliana che ecco il clima deve essere così una una residenza per anziani non è un luogo dove tra virgolette si pensa che si va a morire è un luogo dove si va a continuare a vivere e la parte finale della nostra vita è quella che abbiamo bisogno di vivere bene è necessario vivere bene modigliana si presta questa la cittadina si presta questa è una cittadina che è molto presente nella nostra struttura quindi è una cittadina dove noi abbiamo non so la messa settimanale presso la nostra struttura i cittadini vengono la presenza del sindaco con noi è costante in qualunque momento noi abbiamo bisogno sono presenti l'attività dell'almanacco fatto nella nostra struttura ci fa sentire parte di una comunità i nostri anziani sono parte di una comunità ecco per quanto riguarda la sua domanda noi siamo in apertura a rimini il centro a marzo apriremo un rsa da 70 posti letto naturalmente fra virgoletti clienti brutto sto termine i pazienti gli ospiti bravissimo grazie per il suggerimento non mancano immagino perché insomma meno male che la vita si allunga io sono contentissima di questo specialmente le donne vivono più degli uomini mi dispiace ma forse perché ci curiamo di più teniamo molto di più la nostra meno peccati allora diamo questi numeri via seminario 2027 modigliana 0 5 4 6 94 29 04 quindi uno telefona deve fare domande particolari naturalmente pagano i privati per conto loro qui non c'è un'assistenza del servizio sanitario nazionale immagino io intanto mi associo all'invito che ha fatto il sindaco di venire a visitare modigliana l'invito che ha fatto l'assessore io dico venite a visitare anche la residenza modigliana perché non è un posto chiuso è un posto aperto prima di fare certe scelte è giusto rendersi conto di che cosa si va a fare quindi noi abbiamo bisogno che i nostri anziani stiano in comunità e che le persone vengono a farci visita ecco questa è la cosa che chiedo io la ringrazio per avere così sottratto del tempo al suo lavoro che è sicuramente molto impegnativo saluto tutti il personale ma gli ospiti soprattutto quelli che ho conosciuto che mi hanno dato la mano che mi hanno sorriso devo dire gli anziani sono sempre comunque dolci e vanno rispettati eh guai a chi il signor riceve i bambini ma insomma manca gli anziani ecco voglio dire dottore la ringrazio buon proseguimento nel suo lavoro buon anno e soprattutto così un caldo arrivederci perché verrò a Modigliana e se lei è in struttura verrò a salutarla saluto il dottor Fasolino e complimenti per il lavoro anche dei suoi collaboratori grazie grazie di questo invito auguri Stefano andiamo grazie a tutti